Una serata di sport per ricordare, nel miglior modo possibile, Pier Mario Morosini. Il Movimento Regione Salento e il Leo Club Lecce hanno organizzato il primo Memorial dedicato al calciatore del Livorno, tragicamente scomparso sabato scorso. Un quadrangolare che ha visto misurarsi in un clima di grande sportività le rappresentative del Comitato Noi Lecce e dei giornalisti locali, oltre alle due formazioni degli organizzatori. Il Memorial è andato al Movimento Regione Salento, ma quello che più contava, in una serata così, era onorare il ricordo di Pier Mario e della sua maglia numero 25. Noi avevamo pensato insieme al Leo Club, qua ben rappresentati da Valerio, di organizzare una manifestazione per cuore amico, per raccogliere dei fondi. Poi è successo quello che è successo, abbiamo deciso di fare sempre questa manifestazione con una dedica particolare al ricordo di Morosini. Ecco, il ricordo di Pier Mario per l'appunto. Sai, quando succedono queste cose davanti a certe tragedie fondamentalmente si deve mettere da parte tutto, bisogna riflettere. Molti hanno detto perché, ricordarlo così subito, a pochi giorni dopo la morta. Secondo me non c'è un momento per ricordare una persona, ognuno di noi la ricorda come vuole. Il ricavato dell'iniziativa, grazie a cuore amico e alla Onlus Udinese per la vita, verrà interamente devoluto alla sorella del calciatore. Una pagina di sport pulito e di grande umanità, che risalta ancora più in un momento di grande difficoltà per la credibilità del mondo del calcio, ricompattatosi intorno al dolore per la morte di Pier Mario. L'iniziativa è finalizzata comunque a riportare il calcio nei veri valori, in quello che è, senza esasperazioni e senza tutte le distorsioni che stiamo registrando in questi giorni.